Circa 3 milioni e mezzo di italiani sono a letto con l'influenza e l'Abruzzo al terzo posto tra le regioni in cui è stata superata la soglia di massima intensità e quanto emerge dall'ultimo rapporto della sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità che evidenzia che i più colpiti sono i bambini e in particolare gli under 5. È consigliato l'uso delle mascherine a tutti i fragili, disinfettarsi spesso le mani e soprattutto in caso di sintomi contattare il medico di medicina generale. Lo spiega il professore Francesco Cipollone, direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e direttore del Dipartimento Medico e della Clinica Medica dell'Ospedale di Chieti. Boom di ricoveri anche in Abruzzo per l'influenza stagionale. L'australiana è molto più virulenta rispetto agli anni precedenti. Febbre alta per tre o quattro giorni, insensibile ai comuni anti-infiammatori, dolori articolari, congestione delle alte e medie vie respiratorie, raffreddore e mal di gola, talvolta disturbi gastroestinali come vomito e diarrea. Sono i sintomi prevalenti dell'influenza stagionale. Professore Cipollone, qual è la situazione nel suo dipartimento? Sì, la situazione nel nostro dipartimento è quella di una occupazione pressoché completa dei posti letto. Noi abbiamo nel Policlinico di Chieti tre reparti di medicina, quindi la clinica medica con i suoi 58 letti, medicina 2 con 24 e la clinica geriatrica con 23 e sono tutti occupati. C'è un turnover, diciamo, sui letti, nel senso che quotidianamente questi tre reparti fanno delle dimissioni di pazienti che vengono prontamente rioccupati dai pazienti che arrivano con sindrome influenzale al pronto soccorso. Perché l'influenza quest'anno è così virulenta e possiamo dire se è preoccupante? Sì, quest'anno siamo di fronte a un'influenza sicuramente più virulenta rispetto a quella che eravamo abituati negli ultimi anni a fronteggiare. Nasce, diciamo, come conseguenza della gestione del Covid. Noi durante il Covid abbiamo avuto delle misure di restrizione dei contatti tra le persone estremi, quindi la mascherina è il primo esempio classico, poi lavarsi le mani, evitare gli assembramenti. Questo ha fatto sì che per un paio di anni noi non siamo stati di fatto esposti al virus influenzale, per due anni non abbiamo avuto di fatto l'influenza. Questo è stato positivo, però ci fa pagare un pegno perché normalmente l'influenza ogni anno è circa un 20% nuova dal punto di vista immunitario e un 80% è la vecchia influenza su cui il nostro sistema immunitario è già preparato. Adesso, avendo avuto questo buco di immunizzazione verso l'influenza di due anni, stiamo fronteggiando questa australiana che è quasi totalmente nuova per il nostro sistema immunitario e quindi c'è in piccolo quello che abbiamo passato, l'umanità ha passato con la spagnola o l'asiatica, che è una situazione ancora più gravi, però c'è questa carenza di un background immunitario che gli altri anni avevamo. Si manifesta con un quadro che è indistinguibile dal Covid, quindi il tampone fa da spartiacque e quindi un quadro febbrile, anche forse più alto del Covid, ci sono quasi costanti, riscontri di temperature 39, anche 40 gradi per 2-3 giorni, con dolori articolari, quindi artralgie, emialgie, spossatezza estrema e rinorrea, quindi il classico raffreddore. Non bisogna regarsi al pronto soccorso che sta già in una fase di sovraccarico, ma bisogna contattare il collega di medicina generale che ha tutte le competenze per fare la prima valutazione, che vuol dire valutare se è una influenza a rischio di complicanze o un'influenza standard, nel qual caso può essere gestita a domicilio senza terapia antibiotica assolutamente che è inutile e favorisce le resistenze batteriche, con terapia di supporto dei sintomi, quindi antipiretici come il paracetamolo o antinfiammatori come l'ibuprofene ad esempio.